Ancora nessuna notizia sul PUC che fu approvato ad Agropoli nell'aprile del 2017 e quanto dichiarato è in microfoni di Cilento Channel dal consigliere di minoranza Agostino Abate che circa un mese fa ha fatto richiesta della documentazione relativa al piano urbanistico comunale che l'ente avrebbe spedito alla provincia di Salerno. È passato circa un mese e ancora non ho avuto risposta, ha ribadito il consigliere. In questo momento ci sarebbe da lavorare su parecchi argomenti, su parecchi aspetti amministrativi. Io onestamente vi dico la verità, tengo da fare una lamentela, la vorrei fare in modo pubblico con questa televisione, con questa squisita televisione. Sto cercando di capire, di analizzare perché il PUC che fu così frutturosamente approvato in aprile, se non erro, del 2017, cioè quando abbiamo fatto le elezioni, ancora non abbiamo notizie. Ho chiesto verbalmente parecchie volte quali erano le notizie, nulla, nessuna risposta. Allora mi sono permesso di preparare in data 8 gennaio, quindi da un mese, una richiesta di trasmissione e documentazione. Tutta la documentazione richiesta dalla provincia sul PUC, tutti i documenti che il comune, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto mandare, o ha sperito evidentemente già, alla provincia. Beh, è passato praticamente un mese e ancora non ho avuto risposta. Con questo che cosa voglio significare? Voglio significare che un consigliere comunale di opposizione, che deve giustamente fare il consigliere comunale per tutti i cittadini che intendono avere delle risposte, per tutti i cittadini che intendono sapere in che modo e come si muove l'amministrazione sui determinati argomenti, hanno un consigliere che deve aspettare un mese. Cioè molto probabilmente dovrò aspettare forse ancora molti altri giorni, dopodiché mi manderanno i documenti e io potrò essere in grado di valutare qual è stata l'azione amministrativa della provincia e qual è stata la risposta che il comune ha dato sul PUC. Vorrei solo ricordare una cosa, colgo l'occasione, me lo dovete consentire, per dire a tutti che il PUC, il piano urbanistico comunale, non è il vecchio piano regolatore generale di una volta, per cui chi parla di PUC sembra che parli solo e soltanto di edificazione, assolutamente no. Il PUC è un piano di sviluppo di tutta la comunità, di tutta la città e come piano di sviluppo doveva essere immediatamente redatto e già operativo. Noi stiamo perdendo tempo, abbiamo una città che sta in una situazione di stallo completo, non soltanto urbanistico, ma di stallo totale proprio per questa mancanza di PUC, di questo piano urbanistico comunale. Oltretutto stanno per scadere addirittura i tempi concessi a tutta la provincia per poter redigere il PUC. Vi lascio immaginare quale importanza ha questo argomento, eppure sembra che tutto fili in silenzio, che non se ne parli mai e che chi ne parla addirittura poi venga additato per il cementificatore. Non ci azzecca niente il PUC con la cementificazione, assolutamente.